La processione dedicata alla Madonna del Carmelo è iniziata. Ma almeno stanno sfilando i gruppi religiosi, ma anche associazioni cittadine. Qua siamo su Cleftemble Road, in quello che un tempo era chiamato Little Italy. Quello che vedete di fronte a me è Casa Italia e accanto c'è la chiesa di St. Peter's, la chiesa italiana, il punto di riferimento per tutta la comunità italiana di Londra. Infatti, non so se potete vedere i carri che sono un po' più in fondo, ma man mano li aspetteremo che passano. Ci sono tutte le associazioni religiose. Questa è l'associazione di San Calogero. E dietro c'è un altro confalone. Grazie. 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 Questo che sta passando adesso è l'annunciazione. Ci sono i quadri di ciascun. No, 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 no. Ci sono i quadri di inglesi. Ci sono i quadri di inglesi. in London behind London McEwan which was formerly known as Little Italy look at the people who went along the whole Blackmail Road this was the quadrilatero called Little Italy with Taddy Sant'Antonio but I get back because I can do it I'm trying to go down and then I can back the tank is a task come vai Roberto? let us pray in particular for all mothers who have lost the child Maria sta ai piedi della croce che è la perdita del suo figlio un figlio che in cambio dei figli ha ricevuto sofferenze preghiamo in particolare per tutte le madri che hanno perso un figlio queste sono un spazio Santa Lucia che sono Sunt Lucy is the patron saint of the blind. Her feast is the 13th of December. She was born in Syracuse, Sicily and educated in the faith of Christ. She took a vow of virginity. A young nobleman who wanted to marry her was so enraged that he had her in prison. She met her death by the soul. Santa Lucia, santa patrona dei ciechi e venerata il 13 dicembre, nata a Syracuse, fu educata nella fede di Cristo e spessi il voto di virginità. Un giovane nobile che voleva sposarla la fece infigionale. La stampa! Questa invece è davanti alla chiesa di San Pietro, la chiesa di Rose, e questo è il carro principale che porta la statua della Madonna del Carmelo. E qua c'è la compagina clericale che accompagnerà la processione. Seguirà il carro della Madonna. questo diede la tentina. Un pochissimoмо che happiesto da sentire una stanza, come nella knockcontra per la First Exeterista... La associazione Madonna della Neve! La scatola di Santa Francia venne mandata nel convento beneditino di San Siro Piacenza nel 1177, all'età di 7 anni, trascorse tutta la sua vita in convento e morì nel 1218, la scatola di Santa Francia venne mandata nel convento beneditino di San Siro Piacenza nel 1177, all'età di 7 anni, e morì la sua vita in convento e morì nel 1218. La sua festa è il 26 April. San Michele Arcangelo è il santo patrone di Senercia, provincia Avellino, e la sua festa è celebrata il 29 settembre, ed è anche il santo patrone dei poliziotti. La spiega sta illustrando le effigie dei santi che stanno passando in processioni portati a spalla. La spalla. Lui, il terzo giorno si riuscì ancora. Cristo riuscì dal morto dopo tre giorni, come ha promesso ai discorsi, e ha dato alla nostra vita l'ho esperienza. Lui, il terzo giorno si riuscì ancora. Il stato di San Francesco di Paola. San Francesco di Palma is the patron saint for sailors, he was born in 1416 in Palma Caraglia, he joined the Franciscan order and space his life in penance and breath. Associazione A3 Italia. Allora fermo un po' la trasmissione altrimenti diventa troppo lunga, però fra un po' la riprendo quando ci sarà il carro della Madonna del Carmelo seguito dal clero. Da Black and Well, i Tolitoli, l'ombra, ci vediamo fra poco.